Sicuramente la novità più grossa di quest'anno è l'introduzione del TalkMed perché non esiste più una prova di medicina a livello nazionale che si svolge in un solo giorno ma c'è questo Talk che viene erogato da un consorzio interuniversitario che è Cisia e che si svolge negli stessi giorni, nello stesso periodo in tutta Italia. La novità grossa è che al Talk possono partecipare per iscriversi poi a medicina non solo gli studenti che si sono diplomati ma anche quelli che sono iscritti al quarto anno. Puoi svolgere il Talk in un ateneo e poi magari iscriverti a una graduatoria anche di un'altra ateneo, quindi la novità più grossa è proprio questa che è un Talk spendibile in tutta Italia.